Innanzitutto volevamo farle pervenire la nostra solidarietà che va a giungersi alle tante manifestazioni che le sono state espresse finora. Vediamo fisicamente i segni di quanto è accaduto ieri dell'aggressione di cui lei è stata vittima. Che messaggio vuole lanciare dai nostri microfoni a tutta la comunità scolastica che lei dirige e alle loro famiglie? Beh, innanzitutto che i genitori tornino a fare i genitori e non i difensori dei propri figli. La prima cosa in assoluto. Che abbiano rispetto per le autorità, che non giustifichino sempre tutto ciò che accade a scuola, tutto ciò che si assumono le proprie responsabilità, ma soprattutto che lo Stato ritorni a fare lo Stato. La scuola è stata anche svilita, ridotta a merce da mercato. Ed è chiaro che quando sei una merce sei proprietà di chi ti compra. Pensate solamente ai genitori che oggi possono scegliere scuola, orari, cose. Possono praticamente disporre di tutto. Quello che accade a scuola, accade anche negli ospedali. Dal punto di vista emotivo, qual è il suo stato d'animo? Amareggiato. Amareggiato, ripeto, nella constatazione di un modo di pensare, di un modo di agire che non ha più freni, non ha più rispetto. Non ha più rispetto non solo per le istituzioni, ma anche per le persone. E per un livello di violenza che diventa sempre più, sempre più esasperato. A partire dagli alunni stessi. Oggi io, se dovessi fare una percentuale di alunni, parlo di bambini proprio della scuola dell'infanzia, cioè di 4-5 anni, bambini violenti che ci sono a scuola, è impressionante. Ce ne sono uno o due per prescrizione. Un dato è certo. Questo increscioso episodio non ha affatto scalfito il rapporto del preside cesario con il territorio. Questo non cancellerà in me l'immagine di Taranto, assolutamente.